buon pomeriggio buona pasqua buona pasqua a tutti casa gala bisogna farla siamo un momentino all'interno e tanti mi hanno chiesto no di fare una barzellettina che era tanti anni che non facevo la facevo quando c'era ancora agnelli che comandava la fia e la facciamo come era quella volta allora praticamente era così che nello stabilimento della fia di torino arriva in in visita quella volta era brescia adesso arriva putin putin arriva con la macchina taffa il presidente della facciamo l'agnelli di adesso il presidente ha prego da questa parte vanno a vedere tutti i stabilimenti così che arriva la catena di montaggio a certo punto lì c'era un operaio e putin fa carissimo cazzo niga ciao come stai tutto bene no carissimo tutti come va tutto bene andiamo a bere una bella vodka insieme a puttana cioè o agnelli ma come cazzo nico no perché noi siamo stati secco sindacato siamo stati una volta a mosca san pietroburgo quella roba lì e ho conosciuto putin a quella volta siamo rimasti amici no no aspetta un momentino no no tu hai queste conoscenze grandi data allora dalla prossima settimana tu diventi caporeparto beh grazie vedi anche le conoscenze cosa vuol dire vabbè caporeparto arriva in visita alla fia la melcher arriva la melcher c'è come in post john fa lì così colà tata 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 arriva lì no agnelli fa vedere il stabilimento arriva lì questo nostro caporeparto vabbè cazzanica frante mio amico cazzanica tu mi ricordo quando tu venire festa pira pira mola con noi che avere amici a grandissima come va tutto bene sì possiamo pere pira insieme ma posso agnelli e porca miseria no no aspetta ma ma conosci ma sì perché ha detto anche lei siamo andati no no allora la prossima settimana mi dispiace tu diventi un mio nel capo settore mi gestisci un po perché insomma queste conoscenze conosci anche il tecnici un po di tala fea il biondissimo il biondissimo il americano arriva lì l'americano ta sai così col ciuffon biondo lì così colà agnelli l'asta la porta così colà tic e questo qua questo è il mio capo settore anzi se puoi far vedere grande grandissimo come va tutto bene insomma agnelli dice no no scusa basta adesso è ora di finire allora facciamo una cosa conosci tutto il mondo facciamo una cosa domani dalla prossima settimana tu mi fai vieni via con me giriamo facciamo andiamo insieme partono via ta sa stu e via via arrivano a roma arrivano a roma sai che era c'era cristianità roma allora arriva arrivano a san pieto ma hai visto pa no andiamo a vedere ta arrivano a san pieto ta si mettono lì a certo punto se si apre l'angelus viene fuori il papa francisco arriva lì fratelli e sorelle ecco qua e non sa a certo punto fa e caro amico casaniga vieni su vieni prego agnelli scusa agnelli momento dottor ma vado su va su e vedete la siena e no la siena ta eccolo lì casaniga a fianco e il fransisco così colà parla continua a parlare a certo punto si apre la folla tutto un disastro agnelli svenuto e c'è francisco aspetta vado a vedere momenti certo che sì mi pare il mio titolare va giù arriva giù arriva giù arriva giù lo prende ma dottor agnelli cosa succede senti allora guarda io non voglio dire va bene che conosci la merca va bene che conosci anche il presidente americano passi anche che mi conosci putti scusa ma che un cinese mi venga vicino e mi dica chi è quell'uomo in bianco vicino a casaniga è troppo signori tanti auguri buona pasca e questa barzellettina è anche dedicata a un amico di aviano daniel un grande barzelletterino giovane bravo ciao ciao ciao